Il segreto. Puntata serale. Domenica 14 maggio 2017, Camilla scopre il diario segreto di Anticipazioni. Per la puntata serale di domenica 14 maggio 2017 le anticipazioni Il segreto rivelano che Camilla riesce a trovare il diario di Manuela, la prima moglie di Ernando, e questo la convince che non può essere stato lui ad ucciderla. Cristobal informa Francisca che Severo l'ha denunciata, mentre Mattias continua ad essere incalzato dai fratelli Zacarias ed Amador, che chiedono la sua complicità per l'ennesimo crimine. Prima parte. Francisca indaga. Emilia si confronta con il cognato Ramiro e capisce che Cristobal sta cercando di instaurare a Puente Viejo un potere assoluto. Nel frattempo, Garigues, fingendo di stare dalla parte di Francisca, va a farle un'importante comunicazione. L'ispettore rivela alla matrona che Severo Santa Cruz asporto formalmente denuncia contro di lei. Lei, atterrita, comincia a chiedersene il motivo e, soprattutto, cerca di capire quali prove abbia il Santa Cruz contro di lei. Seconda parte. La verità nascosta. Nascosto nei sotterranei della tenuta, Ernando non tollera più la situazione, nel frattempo, Camilla trova il diario di Manuela, e questo la tranquillizza molto, dalle pagine emerge che fra i due c'era un legame molto forte, e che certamente Ernando non può averla uccisa. Nelle prossime puntate della telenovela Il Segreto vedrete che deve esserci stato sicuramente qualcuno a incastrare il Dos Casas. Ma chi può essere stato e, soprattutto, per quale motivo? Ultima parte. Mattias confuso. Mattias, intanto, continua a subire pressioni da parte dei fratelli, che stanno cercando di convincerlo a realizzare un grosso colpo con loro, che intendono rubare tutto il denaro della banca di La Puebla, facendo leva sul fatto che egli non è all'altezza della sua fidanzata Beatriz. In questo modo i due malviventi vogliono procurarsi il denaro necessario per partire per l'America. Mattias manterrà la sua posizione di rifiuto o si lascerà convincere a partecipare per sentirsi degno della posizione economica di Beatriz.